Ma è un'aggiunta di tecnici della quale ovviamente mi assumo in pieno la responsabilità, è figlia di una idea, quella che la Sicilia può ripartire, può riprendere a correre. Per far questo bisogna rilanciare il settore della produzione, dall'agricoltura al turismo all'industria eccetera, con delle scelte dure, basta con la grande distribuzione che dice ai politici che gli dà mille posti di lavoro nuovi, magari poi saranno i politici a definirli e a segnalarli, ma fa perdere 5 mila posti nel piccolo commercio. L'agricoltura, ma finalmente sta la tracciabilità, i controlli nei mercati per evitare che i prodotti più o meno verenosi di Egitto e Turchia invadano i nostri mercati. Facciamo un'unica grande azienda per lo sviluppo industriale anziché 10 asi e così dicasi per le case popolari. Il turismo che si basi sulla conoscenza approfondita del territorio e delle risorse turistiche, l'accelerazione della spesa, un assessore che con maggiore fermezza faccia sì che non si perda un solo giorno. Poi l'agricoltura come il turismo, la sanità, risanare, evitare gli sprechi, investire bene le nostre risorse, applicare regole a tutto e a tutti. Questi assessori garantiscono il raggiungimento di questi obiettivi, piaccia o non piaccia. E allora andiamo avanti così. Io me ne assumo la responsabilità, l'Aula valuterà, è iniziato un dibattito, ci sarà un'opposizione. Io ho indicato i partiti con i quali si è aperto un dialogo costruttivo per andare avanti alla grande. Anche gli altri deputati di partiti cosiddetti dell'opposizione, perché si sono messi all'opposizione, possono dare una mano. Volevo dire che tutta la polemica sul ribaltone è una polemica strumentale, è falsa e disonesta. Perché? Intanto io sono il Presidente eletto dai siciliani e vado avanti secondo il mio programma di risanamento e di rilancio, di innovazione e di rispetto delle regole. Lungo questa strada sono alcuni uomini e partiti della cosiddetta maggioranza che se ne sono andati. La riforma sanitaria si sappia. Quando il Russo presenta la riforma sanitaria, per la quale rispettiamo il piano di rientro, risparmiamo, miglioriamo la qualità sanitaria, tagliamo molte aziende che erano 29 e le abbiamo ridotte a 17, cominciamo a inaugurare nuove apparecchiature, nuovi reparti, riduciamo i posti letto degli ospedali che non servono. Se un ospedale ha 100 posti che hanno un indice di occupazione del 60%, facendo funzionare e organizzando meglio quei posti letto possono essere 60. Se ne teniamo 100, buttiamo, mettiamo un milione di euro. E perché buttare i soldi? Quando lui presenta il disegno di legge, il capogruppo del PDL, Leontini, presenta il contro disegno di legge. Se Berlusconi facesse presentare al suo ministro Alfano la legge sul processo breve e il capogruppo della Lega presentasse un disegno di legge contrario, cosa sarebbe? Il tentativo di ribaltone del capogruppo della Lega. Il tentativo di ribaltone del capogruppo del PDL e di quel pezzo di Udc, che ora non lo è più, cioè quelli che si ritrovano con Romano, con Maira, non è andato bene. Hanno ostacolato le riforme, hanno cercato di bloccare le riforme nel settore della sanità o dei rifiuti e si sono messi fuori. Hanno tradito loro la volontà degli elettori. La volontà degli elettori qual era? Che il malaffare, la pastetta, lo spreco continuasse? Certamente no. Altri invece hanno voluto sostenere questa battaglia. Il PDL dà una mano, vota, si riconosce nell'azione della Giunta di questo o di quell'altro assessore, ma anche del Presidente. Perché no? Ha consentito che queste leggi venissero approvate? Bene, ma non c'è nessun ribaltone. Si va avanti col Presidente che esegue il programma nell'interesse della Sicilia. Questo è il governo che abbiamo presentato ieri per un rilancio dell'azione di risanamento e di sviluppo.